Coronavirus, a causa appunto di questa emergenza, anche i programmi televisivi ne subiscono le conseguenze. Infatti soprattutto i programmi in diretta saranno tutti senza il pubblico. Il primo programma a cui facciamo riferimento è Live, non è la D'Urso, che andrebbe in onda questa sera, domenica. Leggiamo appunto il post che è stato scritto da Barbara D'Urso. Il rispetto dell'ordinanza della regione Lombardia Mediaset ha deciso che questa sera Live, non è la D'Urso, andrà in onda in diretta e senza pubblico in studio. Una scelta che condivido totalmente per il senso di responsabilità verso il pubblico stesso, verso gli ospiti e verso i tecnici che lavorano al programma. Si dice the show must go on. Sì ma giustamente senza esporre le persone ad alcun tipo di rischio inutile. Non sarà facile per me con lo studio completamente vuoto ma cercherò comunque di tenervi compagnia con tutti gli ospiti previsti e so che sentirò il vostro calore da casa attraverso i social. Questo è il post che è stato pubblicato appunto da Barbara D'Urso in relazione al programma che andrebbe in onda domenica. Un altro programma però ha attuato le stesse disposizioni. Il programma di cui parlo è il programma delle Iene e sempre tramite un post su Instagram le Iene hanno scritto in questa maniera. Questo è il post scritto appunto dalla redazione. Per la prima volta e 24 anni di storia del programma andremo in onda senza pubblico in studio nelle prossime puntate di martedì 25 e giovedì 27 febbraio come sempre dalle 21 e 20 su Italia 1 in cui vi parleremo naturalmente anche dell'emergenza coronavirus. Le Iene. Non sappiamo se altri programmi attueranno questa disposizione. Per ora è tutto. Vedremo nei prossimi giorni. Se avete notizie ovviamente scrivetele nei commenti. a tutti.